C'è un appello e poi un'iniziativa che parte da oltre 75, forse ancora più, associazioni, parrocchie, circoli sportivi, ma anche centri culturali. Liberiamo Napoli dalle violenze. Intanto io saluto e ringrazio di essere con noi Neli De Milano, che è la portavoce della Rete per la Sicurezza. E' praticamente un comitato di genitori, dobbiamo aggiustare la camera, però che l'abbiamo al contrario. Lasciamone in orizzontale, va bene. Buongiorno a te Neli De, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno e grazie. Intanto leggo questo appello. Radio Napoli Centrale aderisce e invita tutti gli ascoltatori all'Assemblea pubblica che si terrà a Napoli in Piazza Cavour sabato 9 novembre, sabato prossimo dalle 10. Il testo è l'ennesima morte di un ragazzo di 15 anni, Emanuele Tufano, poi quella di Santo Romano, di 19 anni. Ci indicano che non si può più stare a guardare. Sono decine le ragazze e i ragazzi che hanno perso la vita in questi ultimi anni nelle strade di Napoli e della provincia. Ci sono troppe armi che circolano nelle strade, nelle piazze, tra i vicoli, nelle scuole della nostra città. E allora parrocchie, scuole, cooperative, movimenti, associazioni, circoli sportivi e tanti cittadini si riuniranno per ascoltarsi e prendere posizione chiara e netta. Lo ricordo, sabato 9 novembre, dalle 10 a Piazza Cavour. E allora, Nelide, voi fate parte attivamente di questa rete che si è stesa per difendere i nostri ragazzi e dargli un'altra prospettiva di futuro. Come tu sai, sono diversi anni che noi portiamo avanti questa battaglia per la sicurezza dei giovani. La sicurezza dei giovani può sembrare un tema a volte distante. In realtà è l'unico modo per investire sul futuro di questa città. Perché senza i ragazzi, senza che questi possano vivere la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione in maniera sicura, noi siamo una società destinata a soccombere. Dietro queste decine di morti ci sono centinaia di ragazzi che nel corso di questi anni sono stati aggrediti, che hanno subito pestaggi, che hanno subito minacce, che hanno vissuto nella paura, senza che siano mai state prese misure vere e stringenti rispetto a questo problema. Ti racconto una chicca degli ultimi giorni. Una delle mamme che ha denunciato l'aggressione del figlio, pochi giorni fa, ed il ragazzo, diciamo il colpevole, era stato rilasciato a fine di libero perché minore di 14 anni, quindi non imputabile, adesso si è scoperto che la famiglia di questo ragazzo, di questo baby criminale, ha una pagina dove inneggia la libertà del loro figlio, perché nel frattempo ha compiuto 14 anni ed è stato arrestato per tentata rapina. Quindi lo stesso grido della mamma di quel ragazzo che era stato partecipe al raid dove ha visto la morte Emanuele Tufano, varrebbe anche per queste persone, con la differenza che questi hanno un esempio totalmente negativo che portano avanti. Perché non si interviene per frenare questi ragazzi? Perché non si interviene anche a sostituire, a intervenire sulle famiglie che non sono in grado di capire che la criminalità è un disvalore, che figli che escono armati sono destinati a provocare la morte, se non proprio a quella degli altri. Signori, qua è un problema gravissimo, perché se un 14enne ha facilità di uscire armato, vuol dire che qualcosa di grave sta succedendo, vuol dire che il sistema di controllo e di intervento è completamente esaltato e noi abbiamo il dovere di chiedere sicurezza in questo senso. Ecco Nelide, le mamme parlano, parla in questo caso la madre del ragazzo che ha ucciso, Santo Romano, Luigi, ha fatto una confessione, ha detto la madre chiediamo scusa e perdono per ciò che ha fatto nostro figlio, per il dolore terribile che vi è stato inflitto, per la tragedia che state vivendo. Perdere un figlio è una cosa inaccettabile, ricorda la madre e dice anche la nostra famiglia è stata distrutta e poi racconta di come la sua sia una famiglia normale di lavoratori. Mio figlio è stato sempre curato e seguito, lo dice quasi a difesa, già da piccolo dalla neuropsichiatria infantile. Due anni fa diventò ingestibile, sono stati presi provvedimenti con i servizi sociali, mi rifiutava, medicine e visite. Ora il tema è un po' questo, chi doveva vigilare, visto che il ragazzo Luigi ha anche avuto un percorso di carcerazione, quindi di rieducazione, si chiamano così gli istituti minorili, di rieducazione, e poi quando è uscito non è stato seguito da nulla, lo hanno detto stesso i protagonisti della procura minorile, questo Nelide. Ed è una falla del sistema, è una evidente e grave falla del sistema, che rende ancora più necessario intervenire in maniera immediata sulla modifica di una legge per i minori. I minori quando finiscono il percorso che dovrebbe essere, dovrebbe, lo dico in maniera molto risentita, di rieducazione, non hanno nessun follow up, non si segue il dopo. Quando c'è un adolescente, quando noi abbiamo un figlio anche con una semplice influenza, seguiamo le fasi successive, l'evolversi in un corpo giovane, in una mente giovane di qualunque fenomeno. È mai possibile che il nostro sistema giudiziario non riesci a vedere se questo ragazzo ha creato gli anticorpi per l'illegalità. È come una malattia, è un cancro. Dopo un cancro si fanno i follow up. È mai possibile che il cancro più grave che può esserci nella mentalità di un giovane, quello della delinquenza, quello che porta alla rovina sua di un'intera famiglia, ma soprattutto spezza altre vite, non abbia interesse da parte del nostro sistema giudiziario. È di una gravità inaudita. Come vogliamo aspettare anche l'essere seguito? Probabilmente dobbiamo capire che non viene fatto bene, che si deve intervenire perché non ci sono gli strumenti adatti. Serve che su Napoli e sulla Campania, scrivete in tanti, sono oltre 75 le associazioni e i comitati che hanno aderito, ci sia un disegno vero e lungimirante, frutto di un patto costante tra istituzioni, mondo del terzo settore, scuola, associazionismo, realtà religiose, imprenditoriali. Serve un lavoro dignitoso, una sicurezza senza retorica, un controllo del territorio e un piano educativo. Si torna di nuovo a parlare di un piano, di un patto educativo che coinvolga tutti e che tenga i ragazzi impegnati in altro, nello sport, nell'approfondimento culturale, nel relazionarsi tra loro in maniera non violenta. Voi siete stati protagonisti alcune settimane fa e lo siete poi costantemente, anche di iniziative per le serate delle movide, in particolar modo quelle che ci sono nella zona del Vomero, dei baretti a Chiaia, sono tante le mamme che rivendicano questa necessità e questo ruolo. Che cosa dire, Nelide, alle mamme che invece non si accorgono che i figli esce di casa con un coltello in tasca? Il problema è proprio questo. Noi sono ormai anni, e tu lo sai, che diciamo che il patto educativo è fatto tra soggetti. Quindi c'è la famiglia, c'è la scuola, ci sono le istituzioni. Se la famiglia non funziona, la scuola è il primo campanello d'allarme. Ma spesso questi ragazzi non vanno a scuola, sono in evasione scolastica. E quindi dovrebbe esserci un sistema di rete dove poter fare segnalazioni. Il problema è la capacità di intervenire. Allora, hai portato bene l'esempio dei baretti, perché proprio l'ultimo episodio, ovvero l'assassino di santo, subito dopo aver commesso il fatto, con assoluta leggerezza, con totale disprezzo di quanto aveva compiuto, è andato ai baretti di Chiaia. Questo fa capire che ci sono dei luoghi che prescindono dal quartiere, non esistono più quartieri beni e vincoli territoriali, limiti territoriali. La città è liquida in questo senso. E noi dobbiamo presidiare luoghi dove vediamo essere frequenti questi episodi, che sono luoghi di ritrovo, per capire quello che succede e dallo studio, dall'osservazione del fenomeno della Movida che si capisce in che direzione stanno andando alcune criticità. Io questo credo. Allora, il problema non è militarizzare la città, nessuno lo vuole. Anzi, noi vogliamo la sicurezza per i ragazzi. Ma se vengono fermati i ragazzi dai carabinieri, i ragazzini di 14 anni, hanno pistole con maticola a brasa, in dotazione all'esercito serbo nella guerra degli anni 90. Guardate che è qualcosa di avverrante. Ben vengano questi controlli. Però noi abbiamo il dovere di sapere dove vengono prese queste armi e perché c'è questa facilità. Io ho visto un servizio video dove dicevano voi se andate da comprare quelli che vendono il lecover dei telefonini, qualcuno di quelli in alcune zone vi venderà anche i coltelli. Se lo sanno i ragazzini, perché non lo sanno le forze dell'ordine? Perché non si riesce ad intervenire? È un interrogativo grave, ma che noi ci dobbiamo porre e dobbiamo chiedere che si prosegua in tal senso. Bene, Nelide, io ti ringrazio. Nelide Milano, portavoce della Rete per la Sicurezza, saranno chiaramente in piazza sabato mattina a Piazza Capur alle 10. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie.